www.feyyaz.tv C'è la mia compagna che ogni giorno per esempio va su Facebook e mi cerca tipo i ragazzi ma non mi piace conoscere le persone via Facebook, per me ci deve essere il contatto, la persona si deve conoscere di persona, non su Facebook. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.